Vigili del fuoco, medici e infermieri in campo a Pergusa per la partita del cuore, evento di solidarietà a favore della piccola Nora Franzone, neonata a cui è stato diagnosticato un tumore e necessita di importanti cure. Ideatore dell'evento Carmelo Danzè, vigile del fuoco ma anche uomo di spettacolo che ha voluto coinvolgere gli operatori sanitari in prima linea negli ultimi mesi nella lotta al covid-19. Risultato finale 5 a 1 in favore dei vigili del fuoco, ma in queste occasioni ciò che conta è il ricordo di una bella domenica di sport e solidarietà. Innanzitutto mi sembrava doveroso ringraziare il comune di Enna che ha concesso la struttura, ma soprattutto ringraziare i medici e gli infermieri che hanno sposato in toto la mia iniziativa. Quindi ringrazio veramente il cuore. Hanno doppia finalità, sia ringraziare i medici e infermieri che per quanto concerne il contrasto del covid, sia perché sia noi che i medici e infermieri doneremo una piccola somma per le cure della piccola Nora. Speriamo come si diceva sia una giornata di sport e non farci male, perché giustamente abbiamo una certa età e qualcuno ha anche un po' di pancetta, però i medici sanitari eventualmente ci daranno una mano. Abbiamo aderito a questa bellissima iniziativa che oltre a significare aggregazione, non diciamo assembramento perché è illegale, ma aggregazione si può dire, per questa bellissima giornata di sport, di aggregazione e soprattutto per dare questo piccolo aiuto a questa bimba che ne ha bisogno, quindi questa piccola raccolta di fondi per Nora. Abbiamo subito colto in pieno l'iniziativa di Carmelo, perché tutto ciò che è sport e aggregazione è sempre sinonimo di benessere, di socialità e compagnia bella, per cui siamo veramente felici di essere qua e spero che sia una delle prime e delle altre tante iniziative che verranno prese in futuro anche con altri corpi e diciamo tutto quello che può far parte della società civile. Ringraziamo anche noi chi ci ha permesso di essere qua, quindi credo il Comune e soprattutto i Vigili del Fuoco che sono prodigati per organizzare. Speriamo che sia una bella giornata di sport. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.